Dopo le interviste ai personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica, i redattori di Radio Shock del Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza si cimentano ora con le interviste impossibili. In questo periodo i 15 pazienti fanno domande surreali, poetiche, ma anche geniali e divertenti agli organi del corpo umano e ai monumenti di Piacenza. A partire da quest'anno abbiamo deciso di intervistare non più soltanto delle persone, ma anche degli organi e dei monumenti. Un ulteriore passo avanti verso l'abbattimento dei pregiudizi sui malati psichici del progetto nato quasi dieci anni fa, che ha prodotto due libri e una partecipazione alla trasmissione Le invasioni barbariche di Daria Bignardi. Come mai è nata l'idea di intervistare gli organi del corpo umano? Da un incidente che mi è capitato qua sulle scale, sono caduta dalle scale, mi sono fatta male la caviglia, sono finita in pronto soccorso, non vi dico le ore d'attesa, e mi hanno detto dove si è fatta male? Al centro di salute mentale. Ah, lei lavora lì? No, sono andata per una visita. Ah no, mi hanno detto impossibile, i matti sono fatti in un altro modo. E allora da lì è nata l'idea di intervistare gli organi del corpo, che poi vengono interpretati dai loro primari, per togliere lo stigma, il pregiudizio all'interno stesso dell'ospedale. Faceva la parte dell'utero, lei è ginecologa, le abbiamo chiesto, io le ho chiesto perché abbia un nome maschile l'utero quando lei è una donna, per esempio. L'esperienza dei monumenti è stata un'esperienza interessante, anche perché soprattutto poi cercavamo di capire quale potesse essere la persona fisica che potesse esprimere il monumento, e questo è stato in alcuni passaggi un pochino più complicato. Hai fatto delle domande particolari? No, io sto a ascoltare, sì, sto a ascoltare e basta, faccio qualche domanda ogni tanto, ma non rompo molto il scatto. Su monumenti, se Renucci e Alessandro si potrebbero affrontare, oltre che guardarsi, cosa succederebbe tra i loro due? Roberto Ghisoni, decano di Radio Shock, ci elenca i ruoli che gli organi avrebbero all'interno di una formazione di calcio. In difesa metterei il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, l'attacco metterei il rene, in panchina metterei l'organo dell'olfatto, poi l'organo visivo e poi non so più cosa dire. Grazie.